Sì! Pronti? Sì! Via! Dai! Forza! Festa di scuole sport a Catanzaro col progetto didattico Valori in Rete, il gioco del rispetto, promosso a livello nazionale dal settore giovanile scolastico FIGICI in collaborazione con il MIUR. Sul manto verde del campo federale di via Contessa Clemenza, oltre mille alunni appartenenti alle classi quarta e quinta delle scuole primarie, si sono dati appuntamento con genitori ed insegnanti per la manifestazione finale. Vi hanno preso parte i plessi Gaber, Campanella e Derrico del comprensivo Materdomini, i plessi Bambinello Gesù, Ponte Piccolo, Sant'Elie e Ponte Grande del comprensivo Manzoni, Catanzaro Nord, il Croci, Via Emilia, Barone e Santa Maria Centro del comprensivo Mattia Preti, i plessi Fortuna e Corvo del comprensivo Casalinuovo, Catanzaro Sud, il Gagliardi del comprensivo Patari-Rodari, il Convitto Galluppi, il plesso Zagarisa del comprensivo Bianco di Sersale, il Belcastro del comprensivo di Botricello e i plessi Selliamarine Calabricata del comprensivo Selliamarine. Una presenza molto numerosa che ha confermato la validità del progetto, volto a diffondere l'importanza del rispetto di sé e per gli altri attraverso il connubio tra didattica e sport. 3, 2, 1, forza con l'ultima, forza, 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 inizio! I piccoli protagonisti sono stati accolti dal coordinatore del settore giovanile scolastico Calabria, Massimo Costa, e guidati dallo staff federale hanno lasciato i libri per catapultarsi sul rettangolo verde, dove hanno compreso il significato del rispetto che è stato il valore di riferimento di quest'anno. La festa è stato un susseguirsi di attività ludiche e giochi motori con la palla, eseguiti a conclusione delle attività svolte nei messi scorsi a scuola con l'aiuto dei collaboratori del settore giovanile scolastico Calabria, laureati in scienze motorie che hanno coadiuvato gli insegnanti. Nel corso della mattinata, per riscoprire i giochi di un tempo e assaporarne la genuina semplicità, sono stati anche proposti staffetta, corsa coi sacchi e tiro alla fune. Forza, due minuti, sono le 11, forza!